Quando Alessandro Furchino Capria deve spiegare il senso del suo lavoro sull'istante del cambiamento cita un libro che è stato un libro storico per la cultura americana prima, poi per tutti gli altri perché è diventato un best seller che si chiama Lo Zen, l'arte della manutenzione della motocicletta e quando interpellato gli viene chiesto forse le categorie del pensiero un po' vecchiotte che abbiamo non riescono a dare forma all'esigenza della contemporaneità del sussulto del cambiamento lui dice c'è un libro che spiega bene questa cosa e cita una famosa frase di questo libro in cui lo scrittore Robert Pearson che è anche un filosofo dice le vecchie categorie del pensiero oggi sono completamente inadeguate abbiamo bisogno di un nuovo pensiero, di un nuovo tempo che cambino completamente proprio le radici del pensiero la questione è vecchia, è vecchia e tutte le cose vecchie sono buone perché se sono resistite al tempo significa che c'è qualcosa che ci tocca al di là delle forme del tempo in cui viviamo cioè che cosa sono quegli istanti, quei momenti, quelle posizioni degli oggetti nello spazio e dei soggetti che interagiscono con questo spazio che ci portano davanti al concetto più importante di tutti i tempi cioè il bivio, lo sliding doors, quel momento in cui una cosa può diventare qualcosa ma non lo è ancora diventato però noi avvertiamo che così potrà essere di lì a poco e tutta questa serie di snodi, di strade che si aprono con destra e sinistra però c'è un controsenso ma di fatto il controsenso non ti dice che non puoi andare ti dice che sarebbe meglio non andare ma nessuno ci vieta di prendere un controsenso al di là del fatto che io sono terrone e quindi lo prendo con una certa dimestichezza e così i computer, e così sono i catasti di materiale che potrebbero diventare qualcosa forse lo sono appena stati e noi non abbiamo la capacità di capire se quella è una forma che è diventata un'altra sostanza, se è una sostanza che sta diventando un'altra forma qual è la posta in gioco che c'è dietro e perché è difficile darle corpo con le categorie vecchie che noi viviamo in un mondo, e in questo il lavoro di Alessandro Forchino lo mostra bene dove lo stato potenziale è diventato lo stato attuale non abbiamo più la capacità di comprendere l'obiettivo del progetto come incorporato alle azioni che stiamo facendo abbiamo vissuto negli ultimi 40-50 anni, poi qui ci si deve mettere d'accordo una mutazione sociologica che fa sì che la maggior parte dei nostri progetti si risolvano nel processo non sappiamo se l'obiettivo delle cose che andremo a fare si verificherà nel momento in cui lo facciamo non è poco, perché questa era la scommessa del capitalismo avanzato nel secondo dopoguerra e nel boom economico sapevamo che se studiavamo avremmo avuto un lavoro trovavamo la fidanzata o il fidanzato giusto, ci facevamo moglie, figli, mariti e tutto il resto che se compravamo una casa ci invecchiavamo dentro e quindi dovevamo arredarla finché morte non ci separi mentre adesso, e questo lo spiega bene questo libro pazzesco lo zen è l'arte della mutazione della motocicletta, è un capolavoro cioè lo stato dell'impermanenza, non è un caso che venga citato appunto un libro storico con cui lo zen ha avuto una sua interrelazione in occidente cioè la larga parte delle cose del mondo è transeunte, è di passaggio, è impermanente lo stato A e lo stato B sono stati passeggeri anche ciò che ci sembra definitivo e in alcune delle foto che vengono realizzate noi siamo davanti a delle cose che potrebbero tranquillamente essere belle fatte e finite non di per sé raccontano come in altre foto uno stato di cambiamento in realtà è l'atteggiamento, la luce diciamo così che noi poniamo nei confronti di questi oggetti che fa sì che il materiale possa essere visto in trasformazione oppure no l'istante del cambiamento è uno stato paradossale è così che viene rappresentato perché qualsiasi istante è di per sé un istante di cambiamento non ci sono istanti che sono più stabili di altri lo sono nell'occhio che li guarda nell'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti delle cose abbiamo bisogno di stabilità, di solidità come esseri umani quindi abbiamo bisogno di pensare che questa cosa è fatta questo progetto è chiuso questa casa è ristrutturata ed è fatta e finita questo uomo è bello, è finito, è fatto c'ha la casa, c'ha la macchina, paga il 7,30 e va tutto bene ma in realtà non è così nel senso che ogni stato è passeggero il Buddha dice una grande cosa ma la lascia vaga come tutte le cose che devono dire il Buddha cioè ci dice che il tempo è la vera proprietà dello spazio cioè che è il tempo che a un certo punto dà forma alle cose ma non ci dice quanto tempo, quale tempo, quando avverrà ma ci sta dicendo che anche la cosa che ci sembra più stabile, più solida in realtà è instabile e l'istabilità è sicuramente la proprietà che attraversa il lungo e il largo questo lavoro dove però l'istabilità è instabile nel nostro linguaggio inadatto alle cose del mondo siamo noi che abbiamo bisogno di distinguere tra stabile ed instabile ma tutto si muove di continuo la terra ci appare stabile soltanto perché c'è il fenomeno della tettonica delle placche o perché ci sono i terremoti ma i terremoti sono la condizione di possibilità della stabilità è paradossale perché quando c'è un terremoto i poveri disgraziati che si trovano nel luogo terremotato muoiono, perdono la casa, perdono i figli, perdono i genitori ma se noi guardiamo le cose da una prospettiva più grande, più ampia la prospettiva di Dio, diciamo in filosofi quello è un momentino, è un attimo l'eruzione distrugge tutto ma immette nell'aria l'azoto, i materiali gassosi, l'anidrite carbonica che sono funzionali alla vita che verrà quindi l'instabilità distrugge ed è qui che viene citato piercing e viene citato lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta le vecchie categorie della cosiddetta metafisica occidentale con cui si scontra l'arte contemporanea noi siamo tutti figli di un signore che si chiamava Aristotele e di una teoria che ci spiegano anche a scuola quando ci fanno vedere Michelangelo che faceva le sculture l'atto e la potenza tutto è potenzialmente in atto il David è già dentro la scultura però c'è lo stato di potenza e lo stato di atto il lavoro di Alessandro Forchino è un lavoro in cui la potenza diventa lo stato assoluto non ci sono atti perché ogni atto è una forma di altra potenza in fondo il David era l'atto in potenza del blocco di marmo su questo non c'è dubbio ma anche il David è potenzialmente la sgretolamento dei materiali di quando ci sarà la fine di Firenze la distruzione di questo e di quest'altro mondo è la tana di uccellini che un giorno si metteranno sotto quel marmo e ci faranno cacca, pipì e le loro cose e tutto cambia di continuo oggi noi siamo in un territorio dove l'istabilità è naturalizzata ed è questo il grande invito al cambiamento che queste fotografie fanno dobbiamo cambiare le categorie linguistiche probabilmente dobbiamo cambiare la nostra relazione questo lo dice molto bene anche nell'intervista che l'artista rilascia a Robin Sarastauder dobbiamo cambiare completamente la nostra relazione tra la forma e la sostanza parolone nel senso che cosa vuol dire forma e sostanza qui sono sempre le categorie di Aristotele quindi è paradossale perché dobbiamo cambiare le categorie però usiamo quelle che abbiamo prima sostanza dovrebbe essere l'essenza di una cosa al di là della forma che prende la forma è il momento di cristallizzazione temporalmente estesa in un lasso di tempo più o meno lungo che quella determinata sostanza dovrebbe aver preso ma ancora una volta qual era l'invito dello Zen nell'arte della manutenzione della motocicletta con questa teoria meravigliosa che viene fuori da quel libro che si chiama la metafisica delle qualità cioè che ogni cosa di per sé è magica e l'assoluto è ovunque questa è la frase storica vera di quel libro il Buddha, il divino alberga nei petali di un fiore come negli ingranaggi di una motocicletta dice a un certo punto Robert Piercing in quel libro che cosa significa? Significa che noi spesso vediamo, non lo so, un cumulo di materiale massacrato, distrutto e per noi quella roba non è niente, è una cosa che potrebbe diventare meravigliosa ma per adesso è un pezzo di qualcosa rotto, qualcosa che di per sé non compone una sostanza per noi identificabile mentre altre volte poi vediamo una colonna, un monumento eccetera e diciamo questa è invece la sostanza no, l'uomo è limitato, è un essere profondamente limitato e c'è la stessa identica sostanza, la stessa identica meraviglia, lo stesso identico senso dell'assoluto in un materiale sgretolato come in una colonna, in un animale morto come in un animale vivo in un uomo anziano che si affaccia alla morte come in un giovane trentenne con il fisico scolpito e pronto alla guerra, in una moto distrutta come in una moto perfetta, pronta ad andare sulla strada il concetto che fa da paio all'instabilità, che secondo me è molto chiaro nelle fotografie è chiaro nel libro di riferimento di Alessandro ed è un po' come dire ciò che fa da sfondo è il concetto di manutenzione, lo zen è l'arte della manutenzione della motocicletta la manutenzione è il concetto cardine del buddismo, è il concetto cardine di tutte le religioni positive nel senso che noi nasciamo col peccato e poi dobbiamo fare manutenzione di noi stessi per espiare quel peccato, è il concetto con cui ogni buon tecnico sa che si deve prendere cura della macchina fotografica, altrimenti non funziona più, della videocamera, della bicicletta se tu ti compri una bella bicicletta ma poi non sei in grado di pulirne i raggi, prima o poi la butterai se hai una bella moto ma non sai cos'è un carburatore, non funzionerà se tu hai un bel pezzo di formaggio nel frigo ma lo lasci sotto il sole per 20 minuti lo butterai che è il concetto di cura, il concetto chiave della contemporaneità oggi si dice che ci sono più curatori che idraulici, in parte questo è vero però è anche una cosa positiva, nel senso che abbiamo bisogno di manutenzione anche gli oggetti più industriali, gli oggetti che apparentemente ci sembrano più asettici gli oggetti che apparentemente ci sembrano più stabili le stampanti, le macchine fotografiche, le colle, le chiavi esagonali che a un certo punto vengono fotografate all'interno di questo lavoro hanno un continuo e costante bisogno di essere curate, di manutenzione l'istabilità è una condizione strutturale a che cosa? al mondo, senza dubbio ma il mondo se ne frega delle categorie umane fai terremoti, fai i tsunami, fai le piogge, fai i grandi soli, fai i deserti perché come diceva Darwin, la condizione del disordine è la condizione di possibilità dell'ordine cioè se a un certo punto la vita non si fosse mesciappata, meschiata tra loro non ci saremmo stati noi, se non fosse arrivato un gran bel meteorite a un certo punto della storia geologica del pianeta non ci sarebbe stata la grande glaciazione, non ci sarebbero estinti dinosauri e oggi non sarei qui a dire queste fregnacce ci sarebbe probabilmente uno pterodattilo che girava per l'abrianza invece che me che racconto le mie cose la morte di una specie è stata la creazione di un'altra è la sfida del contemporaneo l'umano ha la responsabilità della manutenzione perché l'occhio vuole l'instabilità e la stabilità contemporaneamente vogliamo il cambiamento ma non vogliamo un cambiamento negativo vogliamo andare avanti con il progresso scientifico e tecnico ma non vogliamo che la crisi climatica ci butti a terra tutto quello che abbiamo costruito vogliamo avere dei figli ma non vogliamo che la sovrappopolazione uccida tutti perché diventiamo troppi vogliamo avere del cibo buonissimo ma non vogliamo che a furia di consumare carne moriamo tutti quanti allora questo volere stabilità con l'instabilità strutturale che porta all'idea della manutenzione e anche alla parte per me ognuno quando guarda un'opera d'arte ci vedi a fare i propri diceva Gillo Dorfless e quando io vedo tutti questi lavori che raccontano strade molto ghirriani quasi mi verrebbe da dire che raccontano strade con rotonde, bivi, scambiatori, stop eccetera io ci vedo questo il fatto che l'essere umano è costantemente portato a dover andare rapidamente a destra, a sinistra a circolare una strada a capire che spesso poi noi paghiamo gli errori di queste cose una consapevolezza questo forse è il messaggio che c'è dietro che qualsiasi cosa succederà comunque durerà meno della preoccupazione che noi possiamo avere nei confronti della cosa che è successa e anche un grande impeto alla libertà non preoccupatevi siate di passaggio